Ciao Michi! Ciao Geo! Ciao Michi! Ciao Geo! Ciao! Dov'è? Dov'appuntamento? Viene le tre? Viene le dieci? Vi dico, viene le dieci? Viene le dieci di sera, però, io... Io, io, io... Ciao Michi! Ti posso guardare? Sei uguale, però... Vabbè, adesso lasciamo per doveri. Ciao Michi! Ciao! Ciao Michi! Beh, cominciamo bene anche oggi. Al polo nord, al polo nord, no, no. Ecco, pure in Africa, sì. Ciao Michi! Senti, io andrei a questo punto, tanto tu non rispondi, io ho altro da fare. Sì, direi proprio che è il caso di andare oggi, eh. Adesso cosa fa? Cosa sta facendo oggi? Ciao Michi! Ciao Michi! Ciao Michi! Adesso neanche si parla più, eh? Neanche si risponde più, eh? Ho salutato comunque, eh? Due giraffe... Ciao Michi! Ci siamo, giraffe ci siamo. Sono io. Ciao Michi! Ci penso io, le faccio vedere. Eccola qua. Vabbè, io ti avrei salutato, eh. Ciao Michi! Ciao. Ciao Michi! Oh! Ciao Michi! Ciao Michi! Oh, ma quale onore, ma... Prendi, attenta, attenta, attenta! Ciao Michi! Ciao, ciao! Ciao Michi! Ciao cosa? Ciao Michi! Ciao Michi! Comunque è stato... Eh? Eh? Che c'è? Come mi hai chiamato? Cosa? No, io ormai ho perso le speranze, neanche io lo chiedo più cos'ha, perché... Che data è inutile! Che risposta può darmi se non una stupidaggine?